Vincenzo Specchia è nato a Spongano, in provincia di Lecce, studi ragioneria da istituto tecnico e commerciale presso un istituto di sacerdoti ad Albano Laziale e subito dopo il diploma è assunto al Monte dei Paschi di Siena a Milano all'età di 20 anni circa. Quindi ho lavorato per tutto il mio periodo, per tutta la mia carriera al Monte dei Paschi in varie città, partendo da Milano, poi venendo giù a Taranto, poi ritornando a Forlì, poi venendo a Brindisi e completando la carriera a Lecce. Nel corso del mio lavoro sono entrati in una banca nel Monte dei Paschi di Siena, tanto per ritornare sull'argomento, che era molto sindacalizzata e di fatti appena entrato nel primo anno iscrissi immediatamente alla FISAC, che è l'organizzazione sindacale del credito e delle assicurazioni. E con la FISAC cominciamo a fare anche delle manifestazioni sindacali per rivendicare determinati diritti. Prima c'era l'orario di lavoro mattina e pomeriggio, si aprivano gli sportelli mattina e pomeriggio, si aveva ancora una visione patronale del lavoro, anche se in banca non è che c'era il padrone, c'erano i funzionari, i dirigenti. Però quello del lavoro pomeridiano era diventato una cosa difficile per gli impiegati e quindi uno degli argomenti fu proprio questo, l'abolizione del lavoro pomeridiano o dell'apertura degli sportelli pomeridiani, cosa che riuscimmo ad ottenere poi nel corso di quegli anni. Però c'è stata sempre una progressione da parte del… riuscimmo ad avere la chiusura dell'orario pomeridiano, riuscimmo ad accorpare, perché prima c'erano… mi pare dalla mattina al pomeriggio c'erano due ore di sosta, cosa che diciamo soprattutto per la gente che abitava nelle città grandi, non faceva il tempo né ad andare a casa né a tornare, per cui rimanevano due ore isolate che non sapevi che fare e quindi accorciamo l'orario tra la mattina e il pomeriggio, lo limitammo a un'ora solamente e quindi anche per riuscire a realizzare questi obiettivi non venivano concessi tanto facilmente, per cui bisognava arrivare a uno sciopero che ti permetteva di spuntare magari mezz'ora, tre quarti d'ora magari l'ora intera, la spuntammo dopo un certo periodo di lotte che avevamo. E poi dal punto di vista dell'organizzazione anche del lavoro ci furono delle manifestazioni per dare un organigramma nell'ambito dei dipendenti a partire dai vari livelli, dai livelli occupazionali, il primo livello, il secondo, il terzo, il secondo e per arrivare poi al livello di funzionario che ti metteva in un'altra fascia di dipendenza insomma. E poi le rivendicazioni salariali, economiche, anche quelle sono state sempre diciamo concesse dietro lotte che il mondo del credito e il mondo delle assicurazioni hanno dovuto fare per poter arrivare a quello che siamo adesso insomma. Il dialogo era soprattutto di appoggiare, appoggiare diciamo solitalmente eventuali rivendicazioni che erano degli operai anche da parte del mondo impiegatizio. E quindi facendo forza sulle varie categorie operai, impiegati, funzionari eccetera, si permetteva di poter avere più forza nello spuntare determinate condizioni che da soli potrebbero anche non ottenere. insomma. E quindi si cercava di tenere una unità o richiedere questa unità nel mondo sindacale sia se appartenevi appunto al credito, sia se appartenevi alla Fiat, sia se appartenevi ai braccianti agricoli. Trovare quest'unione che è stato poi un valore riportato sempre avanti dalla CGL in tutte le situazioni di riunioni, di unione tra le varie categorie, la CGL è stata sempre una di quelle forze sindacali che ha permesso questa unione tra le varie categorie, tra le varie forze del mondo operaio, del mondo impiegatizio, del mondo dei funzionari lavoratori, insomma sempre.